Qua sono neanche un bellaricco perché le robe sono tutto alto. Poi con la finestra diventa anche una sorta di paesaggio che guardi, era bello perché durante l'inaugurazione la musicista coreana suonava, improvvisava sullo strumento, abbiamo deciso di fare così. Mi piaceva l'idea che guardasse anche fuori, che la gente rispettasse via lì e creava questi momenti che non erano più un concerto, era più una situazione informale dove... Grazie. Grazie. Ciao.